Il sindaco di Valmasino Simone Songini, 48 anni architetto, è da questa settimana il presidente del consorzio turistico Valtellina di Morbenio. A eleggerlo il nuovo consiglio d'amministrazione nel corso della prima seduta, svoltasi al termine dell'Assemblea dei Soci, che ha nominato i membri mancanti a seguito delle dimissioni del presidente uscente Alan De Rossi e dei consiglieri Giorgio De Giobbi e Matteo Scamoni. Insieme al presidente indicato dalla comunità montana, in consiglio entrano anche Marco Monti e Maurizio Pezzini. Alla carica di vicepresidente confermato il consigliere Matteo Sanguinetti, già in carica. Il mio intento, dichiara Songini, è quello di agire sulla base di una programmazione condivisa con tutti gli attori pubblici e privati per non disperdere energie e risorse in iniziative non coordinate. Il mandamento di Morbenio aggiunge necessita di una svolta. Riteniamo che questo sia il momento giusto per quanto riguarda sia il territorio che la stessa struttura del consorzio, in tal senso l'incarico affidato a Gigi Negri. L'obiettivo è quello di valorizzare le opportunità turistiche post-covid e ripensare gli eventi autunnali. Non si trascureranno le opportunità di sinergia turistica tra bassa Valtellina e Alto Lago.